Dobbiamo ricordare che Paolo si trovava in prigione a Roma e lui sa che sta per morire e quando tu sai che stai per morire parlerai delle cose molto importanti e Paolo sta scrivendo ad un pastore giovane che lo aveva cresciuto nel ministerio e vi devo dire sono molto meravigliato dalla vostra chiesa e dal vostro pastore e con Nathaniel e di nuovo il pastore Craig ha portato avanti la generazione successiva in modo che la chiesa possa continuare come Calvary Chapel crediamo nel modello di leadership di Mosè Dio ha innalzato un uomo di nome Mosè e quando il tempo è passato Dio ha detto a Mosè di innalzare Josue e quando il tempo è arrivato Dio ha detto a Mosè di portare Josue davanti alla congregazione di posare le sue mani su di lui e di inaugurare la sua opera quindi Dio porta a casa il suo uomo però la sua opera continua con la generazione successiva quindi vorrei leggere il versetto 1 tu dunque figlio mio fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che l'ha arruolato similmente se uno compete nelle gare atletiche non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole l'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti considera le cose che dico ed il Signore ti dia intendimento in ogni cosa quindi di nuovo Paolo sa che morirà una delle cose più impattanti che ho fatto è leggere Seconda Timoteo in una prigione in una prigione a Roma Paolo sa che morirà e sta parlando alla generazione successiva le cose che sono le cose che sono sta dicendo le cose che sono più importanti e dice quattro cose principali il cuore di quello che vediamo la prima cosa riguarda la famiglia dopo parla di un soldato poi parla di un atleta e poi di un agricoltore Paolo guarda a Timoteo Paolo guarda a Timoteo come suo figlio nella fede Paolo cresce questi giovani uomini e li mette nel ministerio e di nuovo se guardiamo indietro a Mosè sotto le istruzioni di Dio lui doveva innalzare Giosuè quando è arrivato il momento in cui Mosè è morto e Giosuè ha preso il posto ok quindi Dio ha sempre avuto un seguito fedele quindi tutta la storia noi veniamo a Gesù e Gesù sceglie dodici discepoli e come li prepara? stando con loro ogni giorno facendo un campeggio intorno al fuoco vedendo i miracoli che lui fa ascoltando i suoi insegnamenti e uno di loro lo tradisce e ci sono sempre queste cose che succedono però poi c'erano quegli undici discepoli e Dio disse Gesù disse che avrebbero fatto molto più di quello che lui fece e il Vangelo poi si è diffuso in tutto il mondo quando sono stati arrestati in Atti capitolo 4 le accuse dei farisei l'accusa era che queste persone non erano istruite perché non erano state nelle università più importanti erano solamente persone ordinarie che Gesù aveva innalzato e portato avanti e i farisei dicevano questo erano persone non istruite e amo questa parte però erano state con Gesù arriviamo poi all'Apostolo Paolo e cosa fa l'Apostolo Paolo prende un giovane uomo spende del tempo con lui impara quest'uomo impara nel guardare essendo parte e poi lui porta avanti la persona quest'uomo nel ministerio e questo continua sempre nella storia e arriviamo al 1960 in quel periodo in America erano tempi bui il nostro presidente Kennedy era stato assassinato Martin Luther King era stato assassinato e c'erano delle rivolte razziste in molte città importanti anche Robert Kennedy è stato assassinato e i campus dei college erano pieni di queste rivolte contro la guerra in Vietnam c'era una generazione completamente persa che cercava un amore libero droga e Dio ha innalzato una coppia in modo improbabile perché non erano hippie però avevano un cuore per le persone hippie e lo spirito di Dio è stato versato e chiamiamo questo la rivoluzione di Gesù e oggi vi voglio dire che lo spirito di Dio viene versato in tutto il mondo io e Mary Lee siamo tornati dalla Repubblica di Giorgia dove abbiamo un istituto biblico della Calvary e lì stiamo istruendo gli iraniani sì, iraniani ed è una cosa meravigliosa perché Dio con il suo spirito lo spirito di Dio viene versato in Iran e migliaia di persone vengono a Gesù prima prima di questo io mi trovavo in Perù perché lo spirito di Dio viene versato anche in Sud America prima di quello ero in Uganda e abbiamo iniziato abbiamo fondato un istituto biblico anche lì ed è entusiasmante vedere quello che Dio sta facendo perché è un movimento del suo spirito Dio vuole arrivare al cuore della prossima generazione noi guardiamo all'Europa oggi guardiamo all'America oggi quante persone perse ci sono e la risposta è sempre la stessa e la risposta è Gesù Cristo Lui sta operando in tutti i paesi oggi Gesù ci ha raccontato degli ultimi giorni che sarebbero stati come i dolori del parto di una donna incinta e vediamo che sta accadendo in tutto il mondo l'intensità e la frequenza delle guerre e dei rumori di guerra si stanno sempre avvicinando di più però il nostro Signore non vuole che nessuno perisca quindi sta innalzando un esercito l'esercito della prossima generazione una generazione di giovani italiani per raggiungere l'Italia una generazione di giovani in Uganda per raggiungere l'Uganda una generazione di giovani filippini per raggiungere i filippini una generazione giovane di peruviani per raggiungere il Perù ed è una cosa entusiasmante di cui possiamo essere parte immaginiamo che in alcuni momenti ci verrà chiesto di abbassare la nostra testa su un patibolo e essere chiesti di farci tagliare la testa cosa farai? Sarai dispiaciuto per te stesso? Cosa fa Paolo? Lui sta parlando alla prossima generazione e dice a Timoteo non c'è nessuno così non so la parola simile sì qualcuno simile a me e quindi Timoteo era così lui era suo figlio sono stato un pastore per 40 anni e sono dove sono da 33 anni avevo 26 anni quando sono diventato un pastore mi chiamavano un pastore piccolo pastorino sì pastore bambino non mi hanno chiamato così per molto tempo però vi voglio dire in questo punto della mia vita quello che Dio sta facendo penso che quando un pastore diventa più anziano deve pensare a crescere la generazione successiva di lasciare l'opportunità nel ministerio così come è stata data l'opportunità a me quando avevo 26 anni quindi sette anni fa un uomo è venuto da me mi ha offerto un edificio in maniera gratuita era un grande edificio quindi era come una specie di casa di riposo in una aveva un spazio per quindi aveva ad esempio una stanza per due persone un bagno poi un'altra stanza per due persone c'era una cucina c'era una stanza per stare insieme e c'erano sì questi appartamenti e quindi è stata data a noi come una scuola biblica e i leader della Calvary Chapel si sono radunati e abbiamo istituito questo istituto della Calvary per tornare alla visione originale di crescere la generazione successiva e di mettere gli uomini nel ministerio e appena abbiamo cominciato abbiamo aperto un altro istituto in Israele in Guatemala e in Perù e in Georgia abbiamo quattro anche in India in Nepal due nelle Filippine e la prossima settimana uno in Messico e apriremo a marzo uno in Brasile perché è lo spirito di Dio che si muove non è qualcosa che noi abbiamo fondato non è qualcosa che noi abbiamo provato a fare però nei sette anni di azione il cento per cento dei nostri studenti sono nel ministerio e se moltiplichiamo questo intorno al mondo perché ovunque vanno inizia un nuovo ministerio con ministeri che vanno avanti e allo stesso tempo ho dato la nostra chiesa in ho passato la nostra chiesa a un pastore più giovane che mi permette di fare quello che sto facendo e vi devo dire che mi sto godendo questo momento lo amo vi devo dire anche che la nostra chiesa sta crescendo e niente potrebbe farmi più felice perché i miei amici in tutte le parti del mondo è facile trovare delle chiese in grandi edifici però che non hanno persone dentro e per crescere e innalzare la generazione successiva e vederla andare avanti crescere e vedo lì in fondo le righe in fondo la prossima generazione e vi voglio incoraggiare di dare il vostro cuore al Signore di non avere mai paura di dire Signore io sono Tuo fai con me tutto quello che vuoi perché non vi pentirete mai di questa decisione quindi la prima immagine che il Signore dipinge è quella di una famiglia quindi il pastore Tyler cioè sua moglie sta per avere per partorire in che modo quella bambina diventerà parte della famiglia perché nascerà e come facciamo a diventare parte della famiglia di Dio la risposta è dovete nascere di nuovo dovete nascere di nuovo non ha importanza se i tuoi genitori sono cristiani non ha importanza se i tuoi genitori sono cristiani o se il tuo coniuge è cristiano non ha importanza se i tuoi genitori sono cristiani o se i tuoi figli sono cristiani c'è una risposta che ogni persona deve dare e quella è se sono nato di nuovo e prima che continuo con il messaggio voglio darvi questa opportunità perché la Bibbia dice questo in Romani capitolo 10 versetto 9 se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio ha riuscito da il morto e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti tu sarai salvato e ognuno tutti coloro che invocano il nome del Signore saranno salvati e lui ripete tutti ogni persona che invoca il nome del Signore sarà salvata e c'è una cosa che ognuno qui in questa sala ha in comune con le altre persone ed è il fatto che siamo a poca distanza dall'eternità in ogni momento alcuni anni fa davo sempre un invito per invitare Gesù nel tuo cuore e noi abbiamo una chiesa molto grande più o meno 750 persone e proprio in fondo le persone si abituano ai posti in cui si siedono quindi queste persone si sedevano sempre nello stesso punto questa persona era ebrea sua moglie era cristiana questa coppia si sedeva sempre in fondo e quella domenica in particolare quando ho fatto questo invito per qualche motivo ho tenuto i miei occhi aperti e per qualche motivo io mi focalizzavo su di loro e ho visto che lui ha chiesto a Gesù di entrare nel suo cuore potevo vedere le sue labbra muoversi mentre dicevo la preghiera quel pomeriggio lui ha avuto un forte attacco di cuore ed è morto però sono stato in grado di dire a sua moglie di dire a sua moglie che l'avevo visto chiedere a Gesù di entrare nel suo cuore quindi mi voglio assicurare che se c'è qualcuno qui che non è salvato se ti chiedo sei salvato la risposta giusta non è lo spero la risposta giusta non è penso di sì la risposta giusta è io lo so io lo so perché ho chiesto a Gesù di entrare nel mio cuore quindi nessuno deve andare via stasera se non è salvato a meno che tu deliberatamente ti rifiuti di chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore se sei credente stasera ti voglio incoraggiare a pregare ad alta voce di pregare vicino a queste persone che magari stanno pregando per la prima volta di portarle verso il regno di Dio quindi io pregherò in inglese io pregherò in italiano quindi voi seguite me quindi preghiamo Signore Gesù che possiamo pregare ad alta voce Signore Gesù io credo che tu sei il Cristo e ti chiedo di venire nel mio cuore per essere il mio Signore e Salvatore per perdonarmi dei miei peccati e voglio vivere per te per il resto della mia vita nel nome di Gesù Amen vi incoraggio a memorizzare a scrivere questo versetto Romani 10 9 non puoi mai sapere quando sarai l'ultima persona l'ultima opportunità che qualcuno ha per pregare a Dio e farlo entrare nella sua vita mi ricordo anni fa una donna nella nostra chiesa suo figlio suo figlio gli puntò una pistola in gola e ha schiacciato il grilletto e non l'ha ucciso quindi è corso all'ospedale e io sono corso all'ospedale e l'ho preso per mano e gli ho detto sono il pastore Gerald se sai chi sono schiaccia il mio dito e gli ho letto Romani 10 9 e gli ho detto vuoi che Gesù entri nel tuo cuore se così schiaccia il mio dito e ha schiacciato il mio dito quindi l'ho guidato in preghiera come abbiamo fatto alcuni minuti fa e dopo ogni frase lui ha schiacciato ha stritolato il mio dito 10 minuti dopo lui era morto ogni persona qui è in grado di portare qualcuno al Signore puoi avere una persona cara che sai che non è credente il Signore ha dato a me una promessa per mio padre che era ateo se io avessi seguito il Signore sarebbe arrivato il momento in cui avrei guidato mio padre verso il Signore e ho avuto l'opportunità di fare quello dieci anni dopo e in tutta la mia vita ogni volta che sono stato chiamato all'ospedale ci sono state poche persone che hanno rifiutato di far entrare Gesù nel proprio cuore quindi come entri in questa famiglia devi nascerci Paolo dice a Timoteo le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri uno dei motivi per cui l'Istituto della Calvary opera in tutto il mondo è molto semplice il motivo noi insegniamo tutta la Bibbia perché la cosa che ci è stata insegnata è quello che il pastore Chuck faceva sono diventato un pastore di una Calvary Chapel semplicemente ascoltando i suoi insegnamenti e ora stiamo passando questo alla generazione successiva perché la parola di Dio è vivente è potente ed è più affilata di una spada a doppio taglio quindi noi insegniamo ai nostri studenti di insegnare tutta la Bibbia quando Merly fa lo studio per le donne lei insegna la Bibbia sceglie un libro della Bibbia e lo affronta capitolo dopo capitolo nei nostri gruppi dei giovani si trova un libro della Bibbia e si insegna capitolo dopo capitolo io insegno lo studio del mercoledì sera e quindi anche la domenica mattina magari il Nuovo Testamento e ci metto più o meno dieci anni a insegnare la Bibbia intera sono stato in chiesa per 33 anni e ho insegnato tutta la Bibbia tre volte l'Apostolo Paolo in Atti capitolo 20 quindi non ho fallito nel raccontare nel parlarvi del Vangelo di Dio tutto il Consiglio di Dio nel Vecchio Testamento la parola di Dio era stata persa nella Casa di Dio e ci sono molti tipi di chiese in cui potete andare ci sono molte chiese cose che si definiscono evangeliche però magari prendono solo pochi versetti magari sono versetti che ti fanno sentire bene e il Pastore il Pastore magari è davanti o sorride vi dice che Dio è amore e come vuoi vivere non ha importanza si va bene lo stesso è quello che veramente dice la Bibbia? la Bibbia ci ci mette i bastoni tra le ruote ci rende la vita un po' più difficile qui c'è la realtà quando noi non siamo d'accordo con la Bibbia non è la Bibbia che è sbagliata Osea dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza e fortunatamente oggi oggi ci sono molti pastori che non credono persino alla Bibbia però che questo non possa essere riguardo noi la parola di Dio è come una spada a doppio taglio è come un grande dottore con una spada che taglia in entrambi i lati e può tagliare il peccato dalla tua vita anche quando è un pensiero prima che diventi un'azione distruttiva nella tua vita e questa è la potenza che ci viene insegnata la prossima immagine che il Signore ci dà è quella di essere un soldato con quello che sta accadendo oggi nel mondo le persone vanno avanti con quello che loro sentono puoi fidarti dei tuoi sentimenti la Bibbia dice che il cuore è ingannevole vogliamo vivere attraverso i sentimenti oppure attraverso la fede qual è la risposta? noi vogliamo vivere per fede a prescindere da quello che noi sentiamo vogliamo essere come buoni soldati di Gesù Cristo vivo vicino a una base dei Marine più grande al mondo e i Marine sono andati un po' in tutte le parti del mondo il Signore ci ha comprati è morto per noi lui è il nostro comandante quindi noi andiamo dove lui vuole che andiamo e mi piace Efesini capitolo 6 ci parla dell'armatura di Dio e ci dice quando tu hai fatto tutto il possibile per stare in piedi sapete qual è la cosa che viene detta dopo? sta in piedi quello che ho fatto è presentarmi se avessi tempo e potessi descrivere la mia vita a voi è stare davanti alla riva del mare e sta arrivando uno tsunami e penso questo mi distruggerà e sapete cosa devo fare? devo stare in piedi e passa magari mi bagnerò un po' però sono ancora in piedi c'è un altro che arriva alla fine della vita di Paolo lui dice al passato io ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa e per ognuno di noi c'è un nemico della nostra anima che ha lo stesso piano per ognuno di noi l'obiettivo di farci abbandonare di farci scoraggiare di farci arrendere la prossima immagine che il Signore ci dà è quella di un atleta in Ebrei capitolo 12 c'è scritto di tenere i nostri occhi su Gesù l'autore e compitore della nostra fede che per la gioia che gli era posta davanti e voglio che ascoltiate attentamente per la gioia che gli era posta davanti ha sopportato la croce non dando importanza si disprezzando si quindi non dando importanza alla croce e quindi si è seduto alla destra di Dio se vogliamo essere dei buoni atleti dobbiamo esercitarci devi allenarti siamo chiamati a allenare la nostra fede se sei un atleta che sta correndo una gara non puoi guardare indietro perché nel momento in cui tu guardi indietro inciamperai l'ultima immagine che il Signore dà è la mia preferita è un agricoltore che si adopera che lavora tanto se siete familiari con la cartina degli Stati Uniti se mettete il vostro dito proprio in mezzo c'è lo Stato del Kansas cioè si chiama il cestino del pane del mondo perché siamo agricoltori che coltivano il grano e noi abbiamo una fattoria di famiglia abbiamo pozzi di olio di petrolio e gas quello ti rende un agricoltore migliore e noi lavoriamo sodo tutte le storie riguardo gli agricoltori che Gesù racconta le amo tutte e ce ne sono molte nella Bibbia mio padre era un uomo molto duro era tedesco tu lavoravi da quando sorgeva il sole a quando il sole andava via e quindi ero incaricato di gestire la fattoria di famiglia quando sono diventato cristiano mio padre era furioso quando sono diventato cristiano e quando ho deciso di andare nel ministerio ogni giorno per sei mesi mio padre mi diceva che mi odiava e che voleva che io morissi e avrebbe disonorato e avrebbe disonorato avrebbe disonorato avrebbe disonorato e un giorno è successa questa cosa era gentile mi ha detto che dovevo dimenticare queste cose religiose e ha firmato un documento per darmi la fattoria sarei stato milionario a vent'anni e il primo versetto che mi è venuto in mente quando Gesù è stato tentato con tutti i regni del mondo e ho detto papà io non posso e mi ha detto che mi odiava che voleva che io fossi morto ed ero lì vicino al granaio che piangevo e il Signore ha parlato al mio cuore tu seguimi e arriverà il giorno in cui tu porterai tuo padre a me niente di quello che noi attraversiamo in questo mondo può essere comparato alla gloria che sarà rivelata in noi dieci anni dopo quando ho portato mio padre al Signore ero così contento però vi dico che il meglio sta per arrivare perché sarò in grado di avere una relazione con mio padre in cielo una relazione che non ho mai potuto avere qui sulla terra Gesù dice questo a tutti noi alza i tuoi occhi i campi sono bianchi sono pronti per la raccolta qui c'è l'accordo noi siamo una famiglia e ognuno nella famiglia partecipe a questa raccolta non importa se sei giovane o se sei anziano se sei un uomo oppure una donna se sei giovane la chiamata del Signore è la stessa e ognuno di noi ne è parte e amici miei in questo giorno quando penso al tempo della raccolta anche se dobbiamo lavorare dall'alba al tramonto io sono sempre entusiasta nella gioia che c'è nella raccolta quindi amici miei c'è una grande raccolta qui in Italia e il Signore vuole fare grandi cose nella vita di ognuno di noi tutto quello che dobbiamo fare è dire di sì in questa grande chiesa che ha una grande eredità il meglio deve ancora arrivare e il Signore vuole usarti in grande mente non solo per raggiungere l'Italia non solo l'Europa ma il mondo intero Amen Possiamo alzarci in piedi Preghiamo and thank you very much let's give her a hand applauso That's